Il nuovo corso di giornalismo, l'evoluzione del giornalismo, imparare a veicolare l'informazione, importanti presenze, Francesco Giuggino fra questi, collega di Tg1, si parlerà praticamente dell'evoluzione dell'informazione all'interno di questo contesto dei social, ma soprattutto parleremo anche di un argomento scottante che è anche di grande attualità, fake news. Seguite il servizio. Francesco Giuggino, collega di Tg1, giornalismi e società, più che un libro, una vera e propria indagine sull'informazione? Sì, è un'indagine sociologica in un momento in cui nel mondo e anche in Italia evidentemente c'è qualcuno che sta accreditando la tesi che si può fare a meno del giornalismo. Il giornalismo in quanto organizzazione professionale, in quanto tradizione che affonda le proprie radici nel rispetto di competenze tematiche ma anche competenze linguistiche e di rispetto di norme deontologiche, credo che continui a essere un presidio fondamentale per la democrazia, credo che sia un supporto straordinario nella costruzione di quell'orizzonte di senso che è a maggior ragione indispensabile di fronte a una società complessa, una società in cui sostanzialmente è piuttosto difficile riuscire a produrre chiavi interpretative in linea con il tasso anche di disintermediazione che è in corso. Quindi serve il giornalismo, serve naturalmente il giornalismo di qualità. In questo libro io provo a dimostrare in che modo il giornalismo può svolgere una funzione sociale utile, soprattutto in quanto sistema che si relaziona con altri sistemi, quindi la politica, l'economia e la cultura, parola che in questo volume io utilizzo nell'accezione più ampia possibile del termine come universo di conoscenze conoscibili. Con l'avvento dei social siamo tutti giornalisti. Come si può distinguere e difendersi da una fake news? Allora io ho proposto una chiave interpretativa peculiare in questo volume ed è quello che farò anche questa mattina qui a Napoli in occasione di questo incontro con i colleghi della Campania. E cioè invitare un po' a riflettere sui rischi che si corrono nel momento in cui queste due parole giornalismo e informazione tendono a divorziare l'una dall'altra. È un po' quello che sta accadendo. Noi siamo stati abituati un po' tutti a concepire il giornalismo e l'informazione come due facce della stessa medaglia. Purtroppo che cosa sta accadendo? Sta accadendo che abbiamo davanti due modelli alternativi. Un primo modello è quello dell'informazione senza giornalismo che significa sostanzialmente affiancare al giornalismo professionalizzato, al giornalismo mainstream anche la cosiddetta informazione che fai da te, che trova evidentemente nei social network e nel web un territorio molto fertile. Dall'altro lato però abbiamo anche un giornalismo senza informazione perché molto spesso il giornalismo nella ricerca di un equilibrio tra i valori antitetici dell'interesse e dell'importanza tende più a proporre accadimenti che siano in linea con il valore dell'interesse che con il valore dell'importanza. Che cosa vuol dire valore dell'interesse anziché valore dell'importanza? Che tendiamo sostanzialmente a rappresentare quella realtà che il pubblico vuole che venga rappresentata senza che ci sia invece un giusto mix tra questi due valori e questo inevitabilmente porta ad una forma di distorsione della realtà su cui forse dovremmo riflettere perché insomma il giornalismo sta attraversando un periodo di crisi che è certamente una crisi di mediazione quindi in linea con la crisi più in generale dei corpi intermedi ma è anche una crisi di credibilità ed è anche una crisi di probabilmente inadeguatezza degli strumenti che il giornalismo ha a disposizione per interpretare la complessità della realtà. In realtà sì, l'altro corso di formazione con questo tema di fondo che sta accompagnando tutte le nostre attività formative che stiamo svolgendo negli ultimi tempi perché la professione sta cambiando, si sta evolvendo e diventa sempre più complicato e più complesso poterla gestire sia da un punto di vista dei giornalisti sia da un punto di vista dell'editore. L'idea è capire come, dove sta andando il mercato, come ci possiamo arrivare e con l'aiuto dei relatori che anche stamattina ci sarà il Francesco Giorgino, l'avvocato Imperiali, il professor Arnesano ci aiuteranno a capire quali possono essere i futuri scenari di questo mercato. E' un momento sicuramente particolare, molto difficile, è un momento di passaggio come io credo forse non ne abbiamo avuti mai nella storia così veloci. In questo senso l'informazione la fa da padrona. Sono anni, 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 sono trent'anni che noi giochiamo dicendo che siamo nella società dell'informazione e della comunicazione. Ci abbiamo solo giocato, non abbiamo pensato che poi questa società vi ha bisogno di nuove regole e molte ci sarebbero sfuggite di mano. Ora siamo qui un po' a leccarci le ferite e un po' a cercare di accelerare. La data protection in questo senso, col regolamento nuovo alle porte a maggio del GDPR, il nuovo regolamento europeo, in qualche modo cercherà di mettere a riparo tutta una serie di categorie e l'individuo stesso. Speriamo che questa volta la prendiamo seriamente e non facciamo come abbiamo fatto già 20-25 anni fa che abbiamo sorriso dicendo che queste erano soltanto sovrastrutture e non ne avevamo bisogno. Siamo con il professore Arnesano, Università Partenope di Napoli. Una domanda a Mazzasecca ci vuole assolutamente per rompere il ghiaccio. Fake news ne parla tutto il mondo. Oramai il web non ci aiuta, anzi... Sì, diciamo che dopo diversi anni sono arrivate ad un livello mainstream le fake news. Noi del web, che viviamo da anni nel web, ne eravamo abbastanza a conoscenza di questo fenomeno, ma probabilmente c'era bisogno di un atteggiamento molto più aperto e molto più approfondito anche da parte dei media tradizionali per sensibilizzare in qualche modo l'opinione pubblica e i player a probabilmente interessarsi del fenomeno. Non è un fenomeno nuovo, non è un fenomeno che in qualche modo si propone come grandissima novità, ma è un fenomeno che si distingue per la sua capillarità. Arriva a chiunque e influenza chiunque, anche i meno, come dire, attenti alla comunicazione. Anzi, forse proprio su quelli riesce ad agire in maniera più consistente.